Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori strisce LED. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo striscia. Questa luce di striscia LED è perfetta per uso interno. La luce può essere controllata da un telecomando o da un'app e la superficie della striscia è avvolta da un adesivo più impermeabile che non si consuma. La striscia LED ha 21 modalità e 10 velocità di lampeggio tra cui scegliere, rendendo facile trovare l'impostazione perfetta per le tue esigenze. I colori RGB ti danno una vasta gamma di opzioni quando si tratta di decorare e la striscia LED 10M con telecomando è ottima per camere da letto, soggiorni, cucine, garage e altro. Questa luce di striscia LED è perfetta per uso interno. La luce può essere controllata da un telecomando o da un'app e la superficie della striscia è avvolta da un adesivo più impermeabile che non si consuma. La striscia LED ha 21 modalità e 10 velocità di lampeggio tra cui sceglie. Numero 4. Lepro striscia. Questo Lepro striscia LED 5M dimmerabile è un ottimo modo per aggiungere un po' di luce extra alla tua casa. Con un interruttore dimmerabile incluso, puoi facilmente regolare la luce per ottenere l'effetto perfetto. Questo kit viene fornito con una striscia D5M, adattatore 12V e interruttore dimmerabile, in modo da poter iniziare subito. I 300 LED SM D2835 emettono una luce bianca brillante che è perfetta per qualsiasi stanza. La striscia sottile è flessibile e facile da installare su quasi tutte le superfici, ed è perfetta per l'uso in cucina, bagni e camere da letto. Ordina il tuo oggi e vedi la differenza che una piccola luce può fare. Questo Are 5M in Mable LED Strip è un ottimo modo per aggiungere luce extra alla tua casa. Con un interruttore dimmerabile incluso, puoi facilmente regolare la luce per ottenere l'effetto perfetto. 3 gradi posto cego V e LED. Una corda di illuminazione di colore RGB, con 44 tasti telecomando e un telecomando IR a 10 metri. Con la scatola di controllo, puoi regolare il colore e la luminosità su 6 livelli. È possibile cambiare colori o velocità con i tasti del telecomando. Non c'è bisogno di altre manopole o pulsanti per cambiarli. Puoi creare una luce diversa in la tua stanza con questo prodotto. Questa è una stringa di illuminazione a colori RGB davvero cool. Viene fornito con un telecomando a 44 tasti e 10 metri di telecomando IR, in modo da poter regolare facilmente il colore e la luminosità su 6 livelli. Inoltre, è possibile cambiare i colori o la velocità con i tasti del telecomando. Non sono necessari altre manopole o pulsanti. Puoi creare una luce diversa nella tua stanza con questo prodotto. È perfetto per ogni occasione. Numero 2. Striscia LED. Questa striscia luminosa LED è perfetta per aggiungere un tocco di illuminazione moderna alla tua casa. La striscia RGB ha 16 milioni di colori e 28 modalità e può essere controllata tramite telecomando o app mobile. È anche sensibile alla musica e al microfono, quindi puoi controllare lo spettacolo di luce con i tuoi brani preferiti o le tue conversazioni. La striscia adesiva è resistente e flessibile e si adatta perfettamente ai bordi dei mobili. La nostra fabbrica professionale progetta ogni circuito stampato strato per strato per una garanzia di qualità al 100%. Questa striscia luminosa LED è perfetta per aggiungere un tocco di illuminazione moderna alla tua casa. La striscia RGB ha 16 milioni di colori e 28 modalità e può essere controllata tramite telecomando o app mobile. Fine, il numero 1 della nostra lista, lavastoviglie. Le lavastoviglie scomparsa totale di Aldi sono perfette per chi cerca un elettrodomestico compatto che non occupi spazio in cucina. Questo modello ha una capacità di 13 coperti e viene fornito con tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento. Grazie al classe energetica A+, questa lavastoviglie è anche ecologica ed economica da gestire. La lavastoviglie è facile da usare ed è dotata di una serie di programmi che si adattano a diversi tipi di piatti. Il programma di lavaggio rapido, per esempio, è perfetto per lavare velocemente i piccoli carichi, mentre il programma di lavaggio intensivo è ottimo per affrontare i pasticci più difficili. C'è anche un timer di ritardo che ti permette di impostare la lavastoviglie in modo che parta automaticamente all'ora che ti è... E sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.